Allora, cari amici, video breve va a video storico che deve fare 700 milioni di visualizzazioni. Ve lo dirò proprio chiaramente fuori dai denti, proprio papale papale, ve lo sbatto in faccia, visto che tanti, giustamente o non giustamente, ancora non hanno ancora capito e continuano a chiedersi ma perché in Italia si parla ancora di vaccini, continuano molti a dire vaccini, vaccini, vaccini e Green Pass, Green Pass, Green Pass, quando tutto il mondo è aperto, quando anche i media ormai hanno già cambiato la loro narrativa perché si sono resi conto che ormai è tutta perdente e non potevano più continuare a sostenerla perché si sono già smarcati e quando vedete i Bassetti, i Virologi, i Crisanti, si sono già smarcati e si stanno smarcando. Allora, proprio papale papale papale, così non ditemi che non potete non capire perché voglio essere chiarissimo. Di fatto, di fatto, di fatto c'è la legge marziale. Il governo italiano, tutto il governo italiano, è strettamente monitorato, monitorato, strettamente e costantemente monitorato. Questi non cambiano narrativa perché hanno preso soldi, hanno preso soldi, tanti, 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 tanti soldi, una marea di soldi. Per questo continuano a parlare di vaccini e di Green Pass. Chi parla ancora di Green Pass e di vaccini, di vaccini e di Green Pass, magari, che so, i mezzi, i nanetti, eccetera, è perché è Deep State, che più Deep State non si può, al mille per mille, ronzullando. Ci siamo capiti? Ebbene, la pagheranno tutti. La pagheranno tutti. Vi aggiungo che a Guantanamo, nei mesi scorsi e anche adesso, continuano a costruire edifici, costruire edifici, costruire edifici, che poi verranno riempiti di gente. E così, e spero che abbiate capito perché in Italia si sta continuando col Green Pass e con le restrizioni. E nel resto del mondo no. Perché adesso si sta operando proprio qui in Italia, qui in Italia. E vi dico di più, molti lo sanno, giorni fa, pochi giorni orsono, a Viareggio, Viareggio, Toscana, Viareggio, terremotino, l'ennesimo terremotino. E la profondità di questo terremotino? Voi direte sotto i dieci chilometri o sopra i dieci chilometri? Più o meno superficiale. Superficiale, superficiale, anche questo superficiale, stranamente superficiale. Otto chilometri di profondità. E sapete cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire? Dams, eccetera, eccetera, eccetera. Voi ragionate, quando siamo sotto i dieci chilometri di profondità maggiore, se la profondità è maggiore dei dieci chilometri, terremoto naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Profondo. Se viceversa il terremoto è a nove, otto, sette, sei chilometri di profondità, Tams. E se non la capite così, più chiari di così, dai che con questo andiamo a diecimila, ma dovremmo andare a centomila iscritti. Non per vantarmi, ma almeno io ho il merito di parlare proprio chiaro, papale, papale, papale. Condividete quindi questo video e spero di avervi spiegato perché in Italia c'è ancora il Green Pass e c'è ancora questa enfasi sui vaccini. Giorgio Riccardin, canale storico YouTube, Giorgio Riccardin2, canale Muletto e su Telegram Giorgio Riccardin. Iscrivetevi, le iscrizioni sono gratuite. E Trump is magic, Trump is magic.